Gnocchi al pesto di nocciole Gli gnocchi al pesto di nocciole sono un primo piatto semplice e veloce da preparare. Uniscono sapori deliziosi con un mix di consistenze irresistibile. Facile da preparare e ideale per una cena tra amici, potete servirlo come piatto unico o accompagnarlo con un contorno leggero. Ecco gli ingredienti per 4 persone. 400 g di gnocchi di patate 100 g di nocciole Tostate 2 spicchi di aglio 2 cucchiai di parmigianulio extravergine Q.B. Sale Q.B. Per preparare gli gnocchi al pesto di nocciole iniziate con il pesto. Tritate finemente le nocciole, quindi unite l'aglio, il parmigiano, un pizzico di sale e l'olio. Frullate il tutto fino ad ottenere una crema omogenea. Lessate gli gnocchi in abbondante acqua salata e scolateli al dente. Condite gli gnocchi con il pesto di nocciole, mescolate bene in modo da amalgamare bene i sapori e servite ben caldi. Buon appetito!